Lorenzo appena sveglio non c'è niente di così male dai C'è quello che sta facendo le storie se ne fotte c'è del video proprio non te le prego io sto lavorando scusa puoi fare il tuo il tuo cosa e non fare la storia ciao hanno fatto per il trentesimo di Disneyland Paris la forma di Topolino col 30 quindi chi è stato a fare questa cosa qua è un genio vorrei che lavorasse al posto di Giampiero ragazzi wow ma come bellissimo vero nulla da invidiare ai grandi parchi io sono stato anche tipo quello in Giappone niente da invidiare bellissimo guarda guarda incredibile vieni vieni no sembrano veri pazzesco grande fai una foto e il video eh sto facendo un video pazzesco la riproduzione incredibile di Pantellas lo sto vedendo il castello l'ho visto però questo è un castello sai qual è la cosa divertente di tutto questo è che essendo in Francia in tutto quel casino lì non c'è neanche un bidet ti sfidiamo a guardare la partita della Juve anche mentre fai l'attrazione ok c'è Juve Milan e Jay sa cos'è la priorità bravo 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 si si stavano la partita ancora qua il bel eroe il bel eroe questa è a parte Juve Milan questo è tu arrivi in cima e poi fai questa dondolata dall'altra parte tutto nel mentre che guardi Juventus Milan bravo 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 quanto fa la Juve Jay quanto fa bravo Jay bravo guarda che quello è fuori gioco è fuori gioco è fuori gioco bellissima è stata finalmente Giampiero ci ha ripreso beh no Spè ma ah ma ma che è che sto pagando per lavorare c'ho fame bro io ho una fame la madonna pizza bravo i tuoi porti mi fanno spaccare sono bello sei bellissimo adesso deve partire la parata di halloween dove fanno vedere i personaggi del terrore quelli di halloween ad esempio eccomi nooo beh allora fai tutto quello che vuoi di me devi stare calmo devi stare calmo devi stare calmo calmati sono personaggi ok è buono steppi è ca ragazzi stiamo per incontrare uno dei più grandi idoli della mia infanzia tu non ti perdere un attimo che questo è importante per me è importante io ti giuro i brividi anche Jacopo guarda brividi grazie 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 nel senso che dobbiamo camminare dai allora muoviamoci allora muoviamoci stiamo entrando nel padiglione delle principesse che è quello che aspettavo di più come mai? perchè mi piacciono i film delle principesse il tuo preferito? Rapunzel ho capito andiamo dai però sono più esaltato che la topolino ok come sto? vediamo ok grazie grazie presa mi ha chiesto il nome a me me l'ha chiesto io ho detto penso anche a loro adesso non gliel'ha chiesto a loro a loro gli sta dicendo ah i Pantellas eh e poi fanno la foto voglio andare lì e schiacciare il pulsante rosso su immediate launch to infinity and beyond non mi ha fatto fare un cacchio eh la grande verità è che Lorenzo ha smesso di fare gameplay perchè è scarso non ci gioca Warzone mio gioca a Slenderman e a Cat Mario fatta ok non riesco a fare punti non riesco a fare punti comunque io riprenderai i punti fatti umiliato ragazzi faccio cacare posso dirti veramente mi sono impegnatissimo e quindi questa uscita a Disneyland Paris è finita è stato tutto molto interessante tranne il fatto che purtroppo il Milan ha vinto stanno perdendo 2 a 0 Milan vince 2 a 0 quindi mi sa che questa questa è l'attrazione peggiore per il nostro Jacopo per il resto meraviglioso è stato bellissimo veramente incredibile ciao brividi